E da Natale a Capodanno parlando del concerto che si tratta al Teatro Verdi di Pisa. Il primo gennaio alle 18 si rinnova il tradizionale appuntamento in musica con la 31esima edizione del concerto di Capodanno, merito ancora una volta dell'impegno congiunto di Lions Club Pisa Host, Comune di Pisa e Fondazione Teatro di Pisa. Sul podio il giovane e talentuoso maestro Marco Attura a dirigere la formazione strumentale congiunta dell'Orchestra Archè e della Camerata Strumentale Città di Prato. Questo 31esimo appuntamento rappresenta una conferma, una conferma che il teatro si apre alla città e si apre alla città per dare gli auguri e gli auguri sulle note musicali e saranno questa volta note musicali della Camerata di Prato e dell'Orchestra Archè, diretta da un giovanissimo, quindi anche questo è un segno di augurio, ma molto talentuoso maestro, Attura si chiama, è molto bravo, è anche un compositore. E sulle note liete di Offenbach e soprattutto Rossini. Come da tradizione e in coerenza con l'attività di servizio del Lions Club e il suo impegno sociale sul territorio, il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto all'isola dei girasoli dell'associazione Agbalt di Pisa che assiste e offre alloggio alle famiglie che hanno bambini in cura negli ospedali di Pisa per tumori o leucemie. È una bella tradizione del nostro club, è un'iniziativa che facciamo insieme al teatro e al comune di Pisa, è un'iniziativa che è rivolta a tutta la città di Pisa e l'obiettivo del club è fare proprio iniziative a favore della città.